Il Parlamento con la legge numero 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, entrambi puniti a titolo di colpa. La legge entrata in vigore il 25 marzo prevede nel caso di omicidio stradale il carcere da 8 a 12 anni e fino a 18 per i casi più gravi e di prelievi coattivi utili a stabilire se il soggetto si è messo alla guida sotto l'effetto di droga o di sostanze alcoliche. Nel corso di un convegno formativo organizzato a Catanzaro da diverse associazioni si è discusso per la prima volta nel capoluogo delle novità introdotte dalla fattispecie normativa con un focus anche sulle problematiche giuridiche e sulle criticità operative. E' cambiato molto, è una legge importante, è una legge che ha un iter lunghissimo, sono lieta e fiera di aver fatto il primo evento e si è stato proprio detto siamo sul pezzo, il primo evento quantomeno qui a Catanzaro sul tema della riforma dell'omicidio stradale. E' cambiato molto, lo stiamo dicendo nel convegno sia dal punto di vista penalistico sia dal punto di vista civilistico, stiamo facendo una resoconto a 360 gradi, ci tengo a dirlo, lei ha fatto molto bene a rimarcare le ricadute sociali, non è solo la commissione pari opportunità della provincia ad averlo organizzato ma anche l'associazione Calabria Futura della quale mi onoro di essere presidente e anche il comitato LIDU di Catanzaro, l'italiana dei diritti dell'uomo. Quindi si vede che impatta socialmente, siamo tutti un popolo di guidatori, tutti noi possiamo essere soggetti a questo tipo di condotte, ci sono degli inasprimenti di pena, c'è una creazione di due nuove ipotesi di reato, omicidio stradale e lesioni personali stradali. Sicuramente ci sono una serie di profili che soprattutto le Camere Penali, l'unione delle Camere Penali ha evidenziato, infatti noi ci abbiamo tenuto ad invitare il presidente della Camera Penale di Catanzaro e anche uno dei nostri relatori e del direttivo della Camera Penale. Proprio vogliamo che sia un confronto e un dialogo a più voci, dall'altra parte invece abbiamo invitato l'avvocato del presidente osservatorio vittime dell'Associazione Nazionale Familiari e Vittime della Strada. Quindi le due voci che si alternano e le due voci che si confrontano su eventuali anche criticità di questa riforma, una riforma che però consentitemi sicuramente era necessaria. Cioè c'era una sproporzione netta fra le pene combinate in caso di gravissimi, addirittura di omicidio, quindi non solo di lesioni personali gravissime ma in caso di omicidio. Non è facile spiegare ad un genitore che ha perso un figlio di 15 anni perché il suo assassino, perché è un assassino, non abbia quasi mai fatto carcere addirittura, ne abbia fatto due o tre anni al massimo e poi sia libero. Non è sete di vendetta, a mio parere è una questione di giustizia sociale, anche giuridica proprio, c'era una violazione del principio di proporzionalità fra l'offesa al bene giuridico sommo apicale della nostra Costituzione che è la vita umana e le pene che invece erano assolutamente ridottissime. Questa legge ha provato a, come dire, metterci rimedio, indubbiamente ci possono essere dei profili, qualcuno solleva già profili di costituzionalità, vedremo. Sicuramente dal nostro punto di vista facciamo informazione, è giusto che sia gli avvocati ma anche i non addetti ai lavori, ripeto, possano essere, diciamo, possano formarsi una loro opinione. Giornate di studio come questa possono essere utili per questo. Penso che innanzitutto le critiche che vengono mosse a questo, chiamiamolo, definiamolo, nuovo istituto si fa per dire, l'omicidio è sempre esistito. L'avere introdotto una norma che prevede la sanzione ancora più su un caso più specifico, qual è l'omicidio stradale, non risolve le problematiche e le criticità di questa norma. Una norma che nella sua concreta applicazione, ritengo, troverà specialmente in sede processuale da parte degli avvocati ma anche da parte degli altri operatori, come il giudice che dovrà necessariamente valutare quelli che sono gli elementi provatori, una difficile e concreta applicazione. Faccio l'esempio accademico per eccellenza, la prova elettiva che viene individuata sarebbe quella sostanziale del prelievo ematico, prelievo ematico naturalmente che per come è strutturata la norma non consentirebbe in caso di rifiuto, naturalmente da parte del soggetto responsabile, di potervi procedere. In Italia sono tante le vittime di incidenti stradali, a loro difesa da anni opera l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada che ha colto con estremo favore l'approvazione della legge utile anche al fine di prevenire stragi stradali. L'abbiamo colto con estremo favore anche perché ci abbiamo lavorato otto lunghi anni, è una legge che in pratica realizza lo scopo fondamentale per cui è stata costituita nell'anno 2000 l'Associazione che riunisce vittime della strada e familiari superstiti e che è l'associazione che ha portato avanti tutti i disegni legislativi che si sono susseguiti dal 2000. Con estremo favore perché realizza lo scopo di fermare la strage stradale e di dare giustizia ai superstiti, ovvero rappresenta un passo importante legislativo chiamato a gran voce ma purtroppo emanato con gravissimo ritardo di fronte a una impunità di fatto che regnava per un buonismo dilagante nelle aure di giustizia. Abbiamo sempre osservato che l'impunità nei reati stradali per cui qualunque criminale stradale di fatto tornava a casa senza espiare effettivamente la pena era uno dei fattori della strage. Il fatto che l'omicidio stradale venisse delegittimato nelle aure di giustizia con pene sempre appiattite verso il minimo della pena, con sconti di pena, applicazione tucur dell'attenua antigenerica, ha fatto sì che il reato dell'omicidio stradale è stato sempre percepito con superficialità come un reato di serie B, come se non le desse la dignità umana, come se non riguardasse la protezione giuridica del bene della vita. Ecco quindi che noi abbiamo chiesto al legislatore di inasprire le pene e di agire nei confronti della sospensione della patente e della revoca della patente. L'abbiamo realizzato e quindi questo passaggio è un passaggio di civiltà assolutamente che deve servire a creare due cose importanti. Da una parte deterrenza e dall'altra parte prevenzione.